salve a tutti ragazzi e benvenuti in nier replicant ebbene si l'ho portato in live su twitch all'uscita ovvero due annetti fa più o meno però non l'ho portato su youtube così come ho portato in precedenza anche nier automata e uno dei miei progetti quello di portare tutta la saga di nier anche se sto procedendo sto procedendo praticamente all'incontrario perché ho fatto automata lo sto facendo replicant quindi diciamo che sto veramente andando al contrario cosa che tecnicamente sarebbe anche sbagliata da un punto di vista cronologico però va bene lo voglio ovviamente portare sul canale è un gioco a cui sono molto molto legato molto affezionato e lo voglio portare in maniera completa cosa vuol dire completa nel mio classico metodo di gioco quindi non solo vi farò vedere tutto il gameplay ovviamente completo vi farò vedere anche tutti i finali farò anche una raccolta dove appunto farò vedere tutti i finali ma vi parlerò anche del gioco vi darò informazioni per quanto riguarda la lore la storia dato che comunque la conosco abbastanza bene e quindi i riferimenti e tutto ciò che viene detto verrà spiegato in contemporanea con la live o comunque in generale con il gioco in live volevo dire non farò riferimenti spoiler dato che comunque near replicant possiamo collocarlo prima di automata quindi tutto ciò che verrà detto che io già so fare riferimento ad automata non lo dirò subito e lo spiegherò alla fine o comunque lo avrò un modo di fare uno spiegone verso i finali o col finale adiacente quindi cominciamo una nuova partita inseriamo il nome che questa volta sarà diverso dalla mia partita precedente dato che ho già fatto una partita che è la stessa partita che ho completato su twitch praticamente quindi si confermiamo il nome diverso perché faremo per l'appunto una storia diversa un po' di farmi che ho già visto che ho già visto che ho già visto noi Grazie a tutti. 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 ok? Guardate che ci sono le tacchette, ci sono gli stack, no? Quindi... Ora puoi premere Rb per lanciare un'esplosione oscura. Caricare attacchi e magie. Tieni premuto il comando attacco o magie per caricare gli attacchi e modificarne gli effetti. Potrei farli in qualsiasi momento durante una combo. Esatto, perché ovviamente, vedete, io posso tenere premuto, ma al tempo stesso se rilascio... Abbiamo questo attacco secondario. Questa esplosione... Questa esplosione di danno. E tra l'altro, guardate come sto aumentando di livello. Ora puoi premere Lb per una esecuzione oscura. Vedete, mi sta insegnando praticamente... Tutte le mosse. C'è anche la finishing. Quando i nemici sono a terra, distesi, si possono... Si possono colpire con un colpo finale, no? Vedete? E sentite adesso cosa sta succedendo. Sto assorbendo... Qualcosa. Ora... No. No. Grazie a tutti. Schivare. Premi RT mentre ti muovi per rotolare e schivare gli amici. Continua a muoverti con L mentre scrivi per scattare. Praticamente, vabbè, mi sembra scontato dirlo, ma questo è il tutorial, no? Il tutorial del gioco. Dove spiega i comandi di base. Grazie a tutti. Il target lock consiglio di utilizzarlo. Almeno, esperienza personale, quando dovete attaccare un nemico o dovete sparare. Ora proviamo le B per scagliare una lancia oscura. Vedete? Praticamente mi stanno facendo vedere tutti gli attacchi. Perché questi saranno attacchi che si sbloccheranno comunque, ovviamente, all'interno del gioco. E guardate quante se ne possono caricare. E guardate quante se ne possono caricare un nemico o dovete sparare. E guardate un nemico o dovete attaccare un nemico o dovete sparare. Ok, quanto pare sono finiti Ok, quindi con tutto quello che abbiamo imparato adesso Ok, quanto pare sono finito Vedete, cioè non è utile eliminare i minion in questo caso Lo stile di combattimento è veramente figo, molto frenetico Tutti coloro che ovviamente amano i giochi action E sicuramente E devo fare attenzione Allora, diciamo che il trucchetto in teoria per questo boss Era stare alle spalle Perché alle spalle, esatto Cioè lui può fare questo attacco ma Ecco qua Sì ragazzi, ci sono i perri Volevo farvelo vedere Ecco qua, ho sbagliato Nont'altro Ah vai Ovviamente per uno stile più frenetico Conviene Sempre utilizzare la schivata Ma è possibile anche parare e fare i perri Quindi Barre d'attacco Ecco, spesso quando affronti dei nemici di grandi dimensioni Appariranno barre d'attacco su alcune parti del corpo Per sconfiggerli dovrei distruggere le parti del corpo indicate Entro un limite di tempo Sarebbero praticamente Sarebbe la finish Perché sennò Altrimenti, vedete, si rialza Ah no Avevo parato Giustamente non potete cancellare l'animazione Quindi dovete fare attenzione Dovete fare attenzione a quando schivate Qua non rischiamo Perché sto morendo Ecco qua Diciamo che la cosa positiva È che La barra Che state togliendo Rimane Diciamo rimane A dove l'avete lasciata Quindi anche se un nemico In questo caso Sta per morire E gli manca pochissimo E voi fate Oh no Non sono riuscito a ucciderlo Non vi preoccupate Perché alla prossima volta Che lo abbattete Si può tranquillamente Shottare In questo caso Sì no no Sì, 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 Sì. 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 Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì.